Dopo il grande successo riscosso sul mercato, Range Rover ci riprova con le Vogue, togliendo il tetto a questa concept. Non cambia molto a livello di stile, ma cambiano le percezioni delle proporzioni sulla fiancata, che utilizza dei grandi cerchi da 21 pollici per snellire un po' le proporzioni. Piacerà o non piacerà? Lo vedremo e in base alla risposta del pubblico la vedremo sì o no sulle strade tra due anni. Grazie a tutti.